Salve a tutti da Milanello, dopo oltre un anno e mezzo torniamo finalmente in presenza, finalmente a vivere una conferenza dal vivo. Siamo stati ovviamente nel corso di quest'anno e mezzo anche altre volte a Milanello, soprattutto alla vigilia delle partite di Champions League per osservare gli allenamenti, ma per quanto riguarda le conferenze nell'arco della pandemia di quest'anno e mezzo li abbiamo sempre svolte su dispositivi a distanza. Questa è la prima volta, vigilia di Milan-Ellas Verona, vedete qui a Milanello stanno ancora uscendo giocatori e staff tecnico, tra l'altro vi facciamo vedere anche delle immagini di Tonali che firmava autografia ai tifosi del Milan e che sono comunque tanti qui al centro sportivo rosso-nero che stanno aspettando l'uscita dei giocatori per firmare autografi, per fare dei selfie come succede durante la stagione. Ha parlato Stefano Pioli e sono comunque uscite delle indicazioni abbastanza interessanti per quanto riguarda la formazione di domani che affronterà il Verona, ci sono alcune notizie da approfondire anche nel corso del pomeriggio e della serata, soprattutto sulle indisponibilità. Partiamo da Zlatan Ibrahimovic, ieri ha svolto allenamento col gruppo, il primo allenamento dall'infortunio ha avuto dopo la partita con la Lazio che è l'unica tra l'altro partita che ha giocato Zlatan Ibrahimovic in questo campionato, a inizio settimana aveva svolto un po' di allenamento individuale, poi ieri e soprattutto questa mattina si è allenato con la squadra. Ha fatto due buoni allenamenti, la condizione di Zlatan sta crescendo, domani mattina si deciderà insieme se convocarlo o meno, deciderà il giocatore insieme allo staff tecnico, insieme a Stefano Pioli, ma noi pensiamo che possa essere convocato anche perché le indicazioni che arrivano su Ibrahimovic sono buone. Ha un ripreso anche dal punto di vista atletico a correre abbastanza bene, quindi dovrebbe essere convocato, dovrebbe andare in panchina contro il Verona. Ovviamente l'ufficialità arriverà soltanto nella mattinata di domani. Sta bene anche Giroud, ma questa è una notizia che abbiamo già dato nel corso della settimana. Il giocatore che già da diversi giorni sta svolgendo allenamento con il resto della squadra, quindi un giocatore completamente recuperato e si giocherà una maglia da titolare con Rebic. I due sono in ballottaggio, al momento secondo le nostre indicazioni è ancora il Croato in vantaggio rispetto a Giroud che però nel corso della partita contro il Verona potrebbe comunque essere schierato o fare una staffetta con il Croato, insomma quindi avere un minutaggio anche contro il Verona perché poi dopo pochi giorni, martedì, c'è l'importantissima e delicatissima sfida contro il Porto dove lì Stefano Pioli vuole avere tutto l'attacco al meglio della forma, quindi mi riferisco sia a Ibra che a Giroud. Per quanto riguarda invece Brian Diaz bisogna aspettare, il giocatore è un po' indisposto, utilizziamo un virgolettato di Stefano Pioli in conferenza. Il numero 10 rossonero nel corso della sosta si è allenato bene ma stamattina è un po' indisposto, quindi bisogna aspettare la serata e domani per capire se sarà della partita. C'è attesa quindi attorno al nome di Brian Diaz, da lì capiremo anche chi potrà giocare se non dovesse farcela a Brian. C'è Daniel Maldini che comunque è tornato dagli impegni con la nazionale, era un po' acciaccato ma alla fine si è allenato bene negli ultimi due o tre giorni, quindi potrebbe essere un'alternativa. C'è lo stesso Krunic che d'altronde dovrebbe tornare tra i convocati anche lui perché sia ieri sia oggi si è allenato bene con la squadra, lo ha detto anche Stefano Pioli in conferenza, ha detto che è un recupero molto importante quello di Krunic perché può dare delle alternative all'allenatore e quindi vedremo anche se Pioli adotterà altre soluzioni se non dovesse farcela a Brian ma altrimenti giocherà ovviamente il numero 10 spagnolo. Rotazioni anche a centrocampo e anche in difesa, Pioli però ha dato le indicazioni sull'unico titolare anche sotto forma di battuta durante la conferenza perché ha detto vi posso dare solo un nome di un giocatore che giocherà sicuramente titolare domani ed è Tata Rosanu. Lui ha detto è un grande professionista, si allena sempre con grande concentrazione, umiltà, ha aspettato comunque la sua occasione e dovrà giocare domani lui titolare anche perché Mirante non è ancora pronto e qui diamo un'altra indicazione sullo stato di forma di Antonio Mirante che ha bisogno di almeno un'altra settimana di preparazione, lo avevamo detto non è ancora pronto, non è possibile che un portiere arrivi e giochi subito titolare. Quindi Tata Rosanu sarà impiegato contro il Verona e pensiamo anche contro il Porto, poi vedremo più avanti settimana prossima se Mirante avrà più minutaggio ma noi pensiamo che comunque al momento il titolare sia Tata Rosanu, poi ovviamente le gerarchie possono sempre cambiare in base anche agli allenamenti, a quello che si dimostra durante le partite e quindi Mirante può ambire anche ad un posto da titolare ma al momento Tata Rosanu è lui il titolare con l'assenza di Mignan. C'è molto rammarico qui a Milanello per l'infortunio di Mignan ma Pioli lo ha detto in conferenza tornerà più forte di prima perché lui è un ragazzo caparbio, volenteroso, determinato, subito si è messo in testa di voler tornare nel giro di due mesi e mezzo nelle famose dieci settimane quindi qui a Milanello lo aspettano, lo aspettano per il completo e pieno recupero. D'altronde Pioli ha detto noi non ci sentiamo sfortunati perché solamente chi si sente sfortunato vede tutto nero in questo momento. Il Milan vuole reagire, vuole reagire subito e domani sera c'è l'occasione per farlo contro il Verona perché naturalmente è finita la sosta, si torna in campo. Il Milan deve sfruttare anche un calendario che nel weekend può essere favorevole perché ci sono comunque degli scontri diretti interessanti come la Roma, la Juve, l'Inter, la Lazio, insomma sfruttare il calendario e provare a battere il Verona che comunque non è un avversario facile, ha sempre messo in difficoltà i rossonieri, vi ricordate anche l'anno scorso a San Siro quindi il fatto che sia tornato Zlatan, che Giroud stia meglio, tra l'altro Pioli ha detto anche che Calabria è convocabile quindi togliamo anche i dubbi sulla condizione di Calabria sta bene ed è convocabile, può essere inserito nella lista per la partita di domani, dà qualche soluzione in più all'allenatore. Allenatore che deve scegliere tra i due centrali di difesa, Kier potrebbe riposare perché potrebbe giocare in Champions League contro il Porto, mentre Romagnoli e Tomori potrebbero essere loro due i titolari contro il Verona. Staremo a vedere, ci sono due, tre ballottaggi aperti, da qui a domani ci saranno le decisioni definitive di Stefano Pioli, naturalmente vi aggiorneremo costantemente sia sul sito sia sul canale YouTube per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti che arrivano dal centro sportivo di Milanello dove finalmente siamo tornati in presenza a vedere una conferenza dal vivo e a salutare anche mister Stefano Pioli.